segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te quanto ora non ricordo quanto siete stati insieme i police quanto la diciamo la durata dei police quanto è stata di anni 8 8 8 anni dall'inizio alla fine dopodiché dopo 20 anni abbiamo fatto un tour una reunion per due anni e quindi diventa un totale di 10 anni ok poi avete indicato ma il frattempo ci siamo completamente abbandonati ok perfetto non se ne parla più ok no volevo chiederti nel frattempo noi anche più o meno queste persone che vedi qua siamo un po una specie di band no ok ma anche c'è non solo loro proprio noi qua siamo un gruppo di amici che fa questo programma da un po di tempo contando dall'inizio ormai siamo già oltre i police siamo no 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 loro non loro pure questi guarda stuart pure questi qua capito pure sì pure lui lui segui il ragionamento stuart noi siamo intorno ai 9 10 anni ok io ti chiedo voi siete sciolti ognuno va per sé tu fai l'opera e gli altri fanno altro ti chiedo quando un elemento della band un elemento di spicco della band lascia la band per andare a suonare con un'altra band la band originaria può continuare noi abbiamo da milano che il prossimo anno se ne va a suonare con un'altra band questo qua ok questo ci saluta ci lascia va da un'altra parte noi secondo te possiamo rimanere compatti o rischiamo di deragliare no dacce una parola di conforto stuart quando uno della famiglia come ok ok uno di noi ok se ne va con un'altra squadra diciamo ok che sport segui tu beh io li lascio andare ok grandissima citazione grandissima citazione ok